Intervallo Stadio San Paolo-Napoli-Livorno 0-0 Commento dei nostri... Napoli poco lucido, sempre più spinta del discorso Sempre la solita storia, poi la scena in campo non ci deve stare, è ridicolo Buono ragazzi, si sente tantissimo la vezza in base della loro mano Non siamo volati, ma siamo più vicini Passa indietro del Napoli, con i giocatori dell'anno scorso Passa indietro, comunque vede che l'asconderemo 1-0 Diciamo che il Napoli meritava il vantaggio in questo primo tempo C'è una buona condizione fisica, ma il Livorno comunque è una squadra difficile che si chiude 1-0 Gurdizalaita Speriamo